Quando ci si presenta in modo da signorini in maniera elegante e poi invece si usano parole pesanti beh, cari amici, qualcuno diceva quando la campagna elettorale io ci sto, io dico io non ci sto a questo gioco cari amici perché non si può attribuire a dei ragazzi che hanno avuto degli ideali, hanno dei valori trasmessi dalle proprie famiglie hanno avuto l'entusiasmo di sostenere e portare avanti una parte della politica tessana durante questa campagna elettorale gli si attribuisce una pesante affermazione come branco di servitori beh, io devo respingere fermamente queste affermazioni qui non ci sono branco di servitori e lo dico, lo dico e lo ripeto con fermezza perché non solo è stato usato in quest'aula e non dovrebbe accadere una cosa del genere ma anche in altri ambienti circostanti dopo aver ascoltato il sindaco Cicchitti subito dopo il primo consiglio comunale della sua giunta bis è il momento di ascoltare anche voci della minoranza dell'opposizione che dir si voglia e indirettamente lo si è capito da alcune affermazioni del sindaco Cicchitti è stato tirato in ballo Tito Antonini per alcune sue affermazioni fatte nel corso del consiglio comunale se non ho capito male quello che intendeva il sindaco si faceva riferimento ad alcune frasi che Tito Antonini aveva ripreso citando Gad Lerner, vero Tito? Allora io penso che il sindaco in quelle sue dichiarazioni si riferisse alla parte finale del mio intervento in cui io parlavo del modo in cui faremo l'opposizione se non ricordo male ho detto che faremo l'opposizione in maniera educata e ho citato una frase di Gad Lerner apparsa su un articolo di qualche giorno fa che ho tra l'altro qui davanti a me in cui lui fa riferimento ad atteggiamenti di branchi, di servitori era evidente che io non mi riferivo a nessuno in particolare ma mi riferivo a un certo modo di fare opposizione lui ha inteso che probabilmente mi riferissi ai sostenitori che va onestamente detto e questo è confermato anche dal fatto che esponenti della maggioranza come Gialleucio Palena e Roccomenna si siano dissociati da certi atteggiamenti diciamo per usare le parole del sindaco che non hanno saputo vincere ma in ogni caso io non faccio caso a queste cose quindi per me era finita lì io ho anche molti amici tra l'altro in mezzo a questi ragazzi che sostengono Liberatessa e quindi non era questo il senso della frase lui l'ha interpretato in questa maniera e mi dispiace anche perché avrebbe anche potuto avere un'altra chiave di lettura visto e considerato che negli ultimi anni a me specialmente ci hanno accusato di essere servi di qualcuno e non era vero tra l'altro una persona che ha dato molto soprattutto a me quindi non capisco perché il sindaco se la sia presa così tanto ma in ogni caso io voglio parlare di cose concrete per me è finita qui non voglio tornare più sull'argomento E a proposito di atteggiamenti dell'opposizione va rimarcato anche il primo discorso ufficiale di Roccomenna il neopresidente del Consiglio Comunale improntato al massimo dialogo voi cosa pensate di questo suo intervento? Io sono assolutamente d'accordo noi l'abbiamo detto nei nostri interventi che faremo un'opposizione rigorosa ferma ma anche costruttiva il problema è che con le attuali risorse del Comune ci sarà ben poco da costruire parlo non solo per noi ma soprattutto per la maggioranza e quindi noi faremo quello che è il compito principale come ho detto in Consiglio dell'opposizione che è quella del controllo siccome dobbiamo far fronte a una situazione che è probabilmente una novità nel nostro panorama locale mi riferisco all'uscita dal patto di stabilità non si era mai verificato prima noi, questo ho detto in Consiglio Comunale e non ho capito perché il consigliere De Fanis tra l'altro a cui sono legato anche da rapporto di amicizia l'abbia interpretato come un atto di guerra in realtà noi eserciteremo quella che è la funzione del Consiglio e vorremmo capire il perché in quale maniera si è usciti fuori da questo patto di stabilità perché loro continuano a insistere sul discorso legato a alcune sentenze che hanno visto soccompere il Comune di Ates e per cui hanno dovuto pagare diverse migliaia di euro svariate migliaia di euro se non ricordo male hanno parlato di circa un milione di euro di sentenze non capisco perché allora non facciano riferimento pure ad esempio ai lavori in piazza che è un lavoro di 14-15 milioni di euro e noi proprio per dare la dimostrazione che non ci limiteremo a controllare solamente atti di questa amministrazione io in Consiglio Comunale ho detto che richiederemo tutta la documentazione contabile, economica relativa per esempio ai grandi eventi che si sono svolti a Ates corti antiche, atesiadi e anche quello delle sentenze insomma tutto quello che potrà dare conto del perché si sia usciti fuori dal patto di stabilità e non mancheremo di far rilevare eventuali responsabilità quindi non è una dichiarazione di guerra è soltanto la volontà di esercitare quella che oggi allo stato attuale con questo sistema elettorale con le risorse del Comune è la funzione principale della minoranza in Consiglio Comunale e cioè quella del controllo anche perché se non controllassimo ci sarebbe anche un bonus per la democrazia tra l'altro una efficace azione di controllo da parte della minoranza può essere anche da stimolo per la maggioranza per farli governare meglio grazie a tutti